Una settimana fa la visita ispettiva sorpresa di Domenico Pettinari, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, vicepresidente del Consiglio regionale, insieme ai consiglieri comunali pentassellati Gabriele Straccini e Giovanni Bucci, aveva messo in luce carenze e criticità del distretto sanitario di Montesilvano in Via Dagnese. A distanza di qualche giorno qualcosa è cambiato, ma ancora molto resta da fare, denuncia Pettinari. Un distretto sanitario attivato dopo 20 anni, si poteva attivare veramente 20 anni fa, ma nuovo e già vecchio, perché abbiamo trovato la pannellatura esterna ammalorata, ci sono buchi addirittura e infiltrazioni d'acqua, e questo non è possibile, è una cosa veramente vergognosa, mancano i parcheggi, i parcheggi sono occupati spesso dai dipendenti e non ci sono i parcheggi per gli utenti, si potrebbero anche realizzare nel cortile attorno. Fare visite ispettive e sopralluoghi oggi dimostriamo che è importantissimo. Una settimana fa sono venuto qui con i miei due consiglieri comunali, Bucci e Straccini, abbiamo trovato una situazione allarmante. Intanto sporcizia dappertutto perché mancano i cestini all'esterno e non è normale. I cittadini sono costretti ad attendere fuori perché mancano le pensiline, d'inverno sotto la pioggia e destalte sotto il sole cosciente, soprattutto per la stanza prelievi. Non solo, c'è un bancale qui abbandonato da due anni, sembrerebbe un gruppo elettrogeno mai messo in funzione, sta qui nel cortile e non sappiamo perché e per come. Abbiamo trovato una settimana fa erba altissima, abbiamo visto che la nostra visita ha prodotto effetti perché almeno quella è stata sfalciata. All'interno abbiamo foto raccapriccianti che descrivevano una settimana fa, ed è stato così per due anni un bagno per disabili non funzionante e completamente invaso da rifiuti speciali e pericolosi. Oggi, questa mattina, ho verificato e servito il mio sopralluogo, almeno hanno tolto i rifiuti speciali dal bagno per invalidi e l'hanno reso fruibile, ma la situazione rimane, carenza di personale cronico, saliamo i piani superiori e troviamo addirittura l'unico ecografo al servizio delle branche specialistiche vecchio di vent'anni, obsoleto, che spesso si rompe e si sfascia. Non avere un ecografo, un distretto sanitario, significa non farlo funzionare bene e anche l'apparecchiatura a servizio dell'oculista e vecchio si sfascia spesso, è stato richiesto più volte la sostituzione, non lo hanno fatto. Questo significa non far funzionare la medicina territoriale. Quando in un distretto, quindi la medicina territoriale, non c'è un ecografo che funziona bene, non c'è una strumentazione per l'oculista che funziona bene, significa non far funzionare il distretto, ma soprattutto far ammalare di più le persone, le persone non trovano l'assistenza e si riversano in pronto soccorso, i pronto soccorso scoppiano e i reparti poi del santo spirito non ricevono. Ecco, io chiedo con forza almeno la sostituzione dell'ecografo, l'acquisto del nuovo ecografo perché è il minimo che serve e soprattutto la sostituzione dell'apparecchiatura per misurare la vista dello specialista oculisti. Queste sono cose importanti, vanno fatte subito, mi auguro che ci ascolteranno anche su questo e la carenza di personale cronico che abbiamo appena denunciato.